Ciao amici Mr. Gadget, un ciaone a tutti e benvenuti alla conoscenza, all'incontro con un altro prodotto in circolazione da qualche giorno, si chiama Honor 6X, è stato presentato proprio recentissimamente per il mercato occidentale. Qualcuno lo definisce il Mate 9 Lite, in effetti vedete ci sono un po' di similitudini sulla parte frontale, vedete ad esempio il posizionamento di quella feritoia superiore per l'audio in capsula e poi anche sulla parte posteriore, insomma qualche riminiscenza per quanto riguarda il design della fotocamera, doppia fotocamera per entrambi, ma qui c'è qualcosa di diverso perché qui c'è un secondo sensore da 2 megapixel che serve per la profondità. Però vedete anche le barre superiori e inferiori sono essenzialmente molto simili tra loro, quello che fa la differenza fondamentale è 5,5 pollici contro invece 6 pollici. Scusatemi, display diagonale da 5,5 pollici abbiamo detto, con una misura 150,9 mm, 76,2 mm, 8,2 mm potrebbe sembrare tanto, in realtà i bordi con questa smussatura abbastanza spiovente rendono il telefono saldo all'impugnatura e tra l'altro anche comunque comodo da maneggiare nonostante abbia questi 8 mm che oggi sono un po' tanti rispetto a quello che succede nella media. Sulla parte posteriore, oltre alla fotocamera doppia, non guardate questi segni che sono la colla dell'adesivo che c'era con il numero di e-mail. Quindi il sensore di impronta digitale è messo nella posizione posteriore, per me perfetto perché quando voi impugnate il telefono il dito cade esattamente in quella posizione. Mentre per gli altri dettagli, a bordo c'è il Kirin 655, è un processore discretamente veloce, tutte le operazioni che voi dovete fare si fanno molto velocemente, vedete anche la gestione di una pagina come quella di Corriere, tutto sommato va via come un fulmine. A bordo di questo telefono, nella versione da 32 GB ci sono 3 GB di RAM, nella versione da 64 GB ci sono 4 GB di RAM, potete anche aggiungere memoria, si arriva con l'estensione della microSD anche a 256 GB, questo vuol dire che per i paesi in cui è disponibile il carallino giusto potete scegliere tra due SIM oppure una SIM e una microSD. Ovviamente connettività 4G per quanto riguarda questo telefono, devo dire che l'unica cosa però che vi devo segnalare per quanto riguarda la connettività è che non c'è la banda Wi-Fi a 5 GB. Questo secondo me oggi nel 2017 potrebbe essere in alcuni contesti un po' problematico, più che altro per quella che diciamo è la enorme quantità di onde, di reti Wi-Fi in circolazione, per cui a volte 5 GB servono per sfuggire alle interferenze. Cos'altro diciamo di questo telefono? Fotocamera. Allora abbiamo detto fotocamera da 12 megapixel con 2 megapixel, questo serve essenzialmente per il sensore di profondità. Questo veramente funziona discretamente bene, non sempre è in grado di catturare le immagini con la qualità che dovrebbe mettere in pista, però diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi ce la fa. Qui vedete quelle che sono tutte le caratteristiche della fotocamera che potete mettere in pista, cioè le riprese pro video, le riprese pro foto, vi faccio vedere ad esempio la ripresa pro foto che vi dà la possibilità di governare tutti i vari parametri di esposizione, vedete l'ISO, insomma in questo caso avete un maggiore controllo della fotocamera che dovrebbe portare anche degli scatti migliori. Poi ci sono le funzionalità che sono quelle tipiche di Huawei e di Honor, il light painting e anche il good food, fatto appositamente per chi ama fotografare i propri piatti, magari piazzarli su un social network. Poi abbiamo la modalità slow motion, la possibilità di scannerizzare, scansionare un documento e poi una modalità specifica per il night shot. Ecco la fotocamera realizza degli scatti che oserei definire, facciamo con promno, io direi di tornare essenzialmente alla modalità fotografica normale che è questa, vedete completamente automatica, vediamo di far scattare una fotografia in modalità normale, vediamo quanto tempo ci impiega, vedete scatto abbastanza immediato, definizione della foto direi in questo caso vedete più che buona. Quando c'è poca luce a volte fatica un po', ma comunque è una qualità buona della fotocamera nel complesso. Quello che è un po' tricky, vedete il passaggio da una modalità all'altra di ripresa a volte non è proprio immediato, cioè più che altro istantaneo, però il risultato finale secondo me è buono. Sottolineo peraltro che a bordo di questo telefono c'è la radio FM, sempre una disponibilità gradita per quanto mi riguarda, un po' perché parlo su una radio FM tutti i giorni e poi perché secondo me è una disponibilità che è sempre utile per evitare di consumare giga quando si vuole ascoltare la musica. Allora adesso sono all'interno, io resetto come forse sapete, vi ho già detto più di una volta, sempre i telefoni per quello che avete tutti questi messaggi. Audio, non il massimo, un audio insomma che è così così dal punto di vista tanto della resa quanto del volume d'uscita, volume d'uscita abbastanza contenuto e suono abbastanza medioso. Non vi ho detto invece della fotocamera frontale, 8 megapixel con la capacità di riprendere filmati a 1080 pixel, anche la fotocamera posteriore, quella principale che ha un'apertura tra l'altro che usa un sensore, proprio dei pixel da 1,25 micron quindi con una buona capacità di catturare la luce, anche in questo caso filmati in full HD a 30 frame al secondo e questo fa un po' la differenza tra i prodotti troppi di gamma e quelli che non lo sono. Vi ho già detto che per 32 giga di memoria avete 3 giga di RAM, per 64 giga di memoria avete invece 4 gigabyte di RAM, il processore grafico è un Mali T830 MP2, mentre vi ho già spiegato che Kirin 655 è invece il processore del telefono con 4 core a 2,1 gigahertz, 4 core a 1,7. sono tutti e 8 i core con l'architettura Cortex A53. La struttura, ecco, e Mui è quella che conosciamo bene, ovvero la 4.1, qui non c'è ancora a bordo del telefono la 5, potete essenzialmente fare un po' di cose con il telefono che vi faccio vedere, la Smart Assistance per vedere che cosa si può fare a livello di movimenti, quindi c'è semplicemente il mute ruotando il telefono, vedete che c'è la possibilità, come sempre attivando la funzione, di utilizzare il telefono in modalità praticamente una mano, quindi spostando tanto la schermata principale quanto eventualmente la tastiera con cui utilizzate il telefono. Allora, per quanto riguarda il software, c'è proprio il software classico di Huawei, io credo che questo potrebbe essere un po' il problema di Huawei, e essenzialmente adesso un po' si comincerà a differenziare, ma la sensazione, la percezione è che prendendo un telefono da 750 euro e prendendone uno come questo da 250, la differenza sia minimale. Il che va bene essenzialmente per chi vuole spendere poco perché ha delle buone funzionalità a disposizione, ma per chi vuole prendere i prodotti top di gamma non c'è quella differenziazione che giustifica un prezzo così alto rispetto ai modelli base. Ecco, io spero di avervi detto essenzialmente tutto di questo telefono che ha una buona maneggevolezza, una buona maneggiabilità, insomma una buona facilità di utilizzo. Questo lato vedete con l'inserimento della microSD, sulla parte superiore c'è l'attacco per le cuffie con il jack a 3 mm e mezzo. Da questa parte il pulsante di accensione e il volume rock, come detto sulla parte posteriore invece la doppia fotocamera con il sensore da 12, quello da 2 megapixel e poi il sensore dell'impronte. L'altoparlante è sulla parte inferiore del telefono, non c'è riproduzione di audio stereo in questo caso. E vi dico, a me questo oggetto piace. Non vi mostro il gaming, in questo caso fidatevi sulla parola del fatto che comunque si comporta bene. Ho provato prima di resettare il telefono Real Racing 3 e tutto sommato il risultato era più che buono. Insomma, Honor 6X vale tutti i soldi che costa e probabilmente vale anche qualcosa in più dei soldi che vengono richiesti per il suo acquisto. Questo è promosso da Mr. Gadget.